Allo showroom Murrina Classica Veneziana, sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita, in via Matteotti 4042 ad Avellino. Anche la campanella in alcuni istituti della città deve fare i conti con turnover, lezioni in spezzatino. In molte scuole come l'Imbriani di Via Pescatori, dove vige la rimodulazione dell'orario degli ingressi, in seguito al riaccorpamento di tutti gli indirizzi didattici, la campanella è rimasta in silenzio. Al suo posto ha scandito e va rintrati agli alunni, la voce dell'operatore ha detto al filtro dei ragazzi, tutti in fila per non perdere il banco più credito e se la campanella non suona, ecco la standing ovation degli studenti dell'Imbriani per benedire il nuovo anno scolastico. Sì, emozionata. Come mai? È perché essendo il terzo anno è un po' più impegnativo e c'è sempre l'emozione. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è imparare la lingua e intraprendere buone strade, come per esempio fare l'hostess che mi è sempre piaciuto. Io fa la prima del musicale. Allora, quindi sei emozionata? Eh sì, un poco, un poco. A che ora ti sei svegliato stamattina? Hai dormito stamattina? Alle sei più o meno. Cosa ti aspetti? Che devo studiare parecchio e qualche debito. Hai già un banco mirato? Penultimo, ultimo. Tu che specializzazione? Linguistico. Che anno sarà questo per te? È uno difficile perché c'è sia l'esame che i test per entrare nell'università. E qua la campanella non suona? Eh, dovrebbe suonare alle 8 e 5, la prima. Eh, ma come mai questo? Cioè, il turnover. Molto casino. Tanti ragazzi, vedi, che non vedono l'ora di entrare. Secondo te per niente. Lo sai, no, pensa oppure no, facciano vedere perché poi dicono che i papà non fanno niente. La raccomandazione per la figlia che adesso approccia un'esperienza importante come superiori? La raccomandazione di essere se stessi e andare avanti, continuare così e studiare per la vita. Sei venuto proprio vestito militare per affrontare questa battaglia? Sì, 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 mi piace questa scuola, ho anche bei compagni, soprattutto l'unica cosa che sto sperando è che l'avellino va pure in serie. Ah, certo, forza lupi. Sempre, otta. Pizzetta. Ah, pure la pizetta. Pizzetta. Cornetto nella... Ci teniamo belli posti, come un vero lupo. Sì, sì, sì. Cosa ti aspetti da quest'anno? Spero, speriamo che riuscimmo a fare famizzato tutti quanti, come sempre, però logicamente... Eh, vabbè, ma questa pizzetta quando è che te la mangi? Eh, allora, alle 10.10 quando la... Ah, c'è l'orario proprio qui. ...suona la campanella. Vai, forza lupi e forza alberghiero. Forza lupi e forza alberghiero. E se gli alunni sono un po' più spavaldi rispetto agli anni passati, c'è chi non ha dormito stanotte per il primo anno scolastico ed è una preside, la preside Pappalardo? Io credo che tutte le notti siano insonni da quando ero alunna, ad ora chiaramente per le responsabilità che ci sono, perché la scuola, benché sia iniziata dal primo settembre, vabbè, a noi non è mai terminata, insomma, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, inizia veramente quando suona la campanella, la fatidica campanella, i ragazzi entrano. Allora si sente il peso della responsabilità.